Un fine settimana ricco di appuntamenti per tutti gli appassionati di musica e di buon cibo è alle porte. Ecco allora alcuni eventi che prendono il via nella serata di venerdì per andare avanti fino a domenica. A Castelpagano è la ventesima edizione della Sagra del Fungo Porcino. Si inizia con la pizza ai funghi porcini il venerdì, mentre sabato e domenica sarà servito un menù completo, sempre a base di funghi. Il tutto avverrà in piazza municipio. In piazza a Casa della Terra invece, tutti e tre i giorni, è previsto un aperifungo. Inoltre, solo sabato e domenica ci sarà la possibilità di un giro in elicottero o di un tour per le vie del paese su un trenino turistico. Ci spostiamo a Colle d'Anchise con Salta nel West. Il campo sportivo comunale si trasforma in un set per tre serate western con il saloon, la taverna e il menù a tema. L'ingresso è gratuito. Ad animare la prima serata ci sarà un duccio. Sabato si potrà acquistare la prevendita del menù, così insieme al pasto, cotechino e fagioli e un bicchiere di vino, si riceverà un cappello da cowboy, una bandana ed un cucchiaio di legno. Domenica poi il pranzo western. Ogni sera giochi e attrazioni. A Frosolone va in scena l'Octoberfest del Molise. Da circa dieci anni, Antichi Sapori di Colombina organizza questa festa tanto attesa. Lo spunto, ovviamente, è dato dal festival popolare che si tiene ogni anno a Monaco di Baviera, in Germania. Così a Frosolone saranno riproposti i piatti tipici del famoso festival. Lo stinco, i wustel, le costatine di maiale, le alette di pollo e patate crauti. Tutto accompagnato da tre diverse specialità di birra. Non mancherà la pizza, uno dei piatti tipici della nostra tradizione culinaria. E poi tanta musica. Venerdì la serata latinoamericana, sabato musica fino a tardanotte, domenica infine piano bar e karaoke. Ciao, ok.